Il Salone del Libro Per Compagnia delle Opere, qual è il significato? Come si legge la presenza di un Salone internazionale del Libro qui a Torino? In Compagnia delle Opere guarda la persona, guarda il singolo, guarda la creatività dell'io perché l'imprenditore o è creativo, parlavamo prima con l'amico esposito, il mondo cambia. Un momento come questo, culturalmente così elevato, con una diffusione di cultura così forte, è fondamentale. Se non cresco come persona, come posso crescere come imprenditore? Come posso io leggere quel che sta succedendo nel mondo, questi cambiamenti così repentini? Devo essere nella posizione corretta, penso che la cultura sia il primo punto per cui una persona stia nella posizione giusta nella vita. Esposito, la domanda è la stessa anche per te, ma soprattutto che aria si respira entrando qua al Salone del Libro? Per uno che arriva dalle auto può sembrare strano trovarsi in mezzo ai libri, però qui ci sono gli automobilisti di oggi, ma soprattutto ci sono gli automobilisti di domani. E io credo che per chi fa il nostro mestiere sia fondamentale rapportarsi con i giovani, perché oggi i giovani e l'automobile hanno un rapporto totalmente diverso da quello che avevamo noi quando eravamo giovani. Trattano l'automobile come un mero strumento, quindi semplicemente lo utilizzo per muovermi, non c'è ancora quell'amore viscerale che avevamo noi per l'auto. Quindi per noi accostarci ai giovani diventa davvero molto fondamentale, importantissimo. Hai parlato dei giovani, il nostro Future Channel ha proprio come claim giovani e imprese per costruire il futuro, per costruirlo insieme. Qual è l'impegno di Compagnia delle Opere? Beh qua a Torino, chi è che non conosce Piazza dei Mestieri, all'interno di quello che è il mondo giovanile? Allora, tutta la parte, il settore, l'ambito lavoro, proprio per come diceva anche prima Esposito, è verso i giovani, la nostra visione sui giovani sul futuro è fondamentale. Quindi realtà formative, realtà che aiutino e introducano nel mondo del lavoro, che facciano cogliere anche verso l'imprenditore qual è l'esigenza del giovane, sono fondamentali. Ma vi dirò di più, noi come Compagnia delle Opere a mio avviso stiamo cavalcando quella che secondo noi è la visione veramente interessante, reale, concreta della sostenibilità. Ci arriviamo, Esposito, hai parlato di mobilità, di automobili, qual è l'approccio diverso che oggi i giovani hanno nei riguardi della mobilità e delle autovetture? Abbiamo assistito al fenomeno del car sharing, stiamo assistendo al fenomeno dell'auto elettrica, ibrida, altre soluzioni, la mobilità pubblica? Come stavo dicendo, i giovani hanno un rapporto molto disincantato, direi, verso l'automobile. Ad esempio, uno su cinque è interessato al green, questo è un dato che ci deve far riflettere, perché solo il 20% dei giovani sono interessati a vetture elettriche, vetture green che non inquinano. Gli altri sono ancora interessati al classico motore termico, diciamo. Però il costo delle autovetture è un'altra variabile che tiene lontano ancora i giovani dall'automobile. E allora bisogna inventarsi formule, strumenti per far sì che tutti possano avvicinarsi, quanto prima, al nostro mercato. Che è un mercato, ricordo, importantissimo per il nostro futuro, perché si sta discutendo di quanto inquini l'automobile nel mondo, di quanto inquini l'automobile la nostra terra. E su questo i giovani sono molto attenti a questi discorsi. E noi l'abbiamo fatto anche portando nelle scuole, con il nostro progetto di educazione stradale, un discorso a 360 gradi, per far toccare con mano che cosa sia davvero il mondo dell'auto ai giovani che oggi hanno un'idea molto confusa. Energia, sostenibilità, quali sono le sensibilità che intercettate dall'universo giovanile e quali sono i progetti formativi, ma non solo, culturali, politici e sociali che avete messo in campo? Ma guardi, sostenibilità innanzitutto vuol dire trattare bene ciò che ci circonda e trattare bene le persone che noi incontriamo. Non è una gran novità, fortunatamente. Noi cristiani e noi cattolici sono duemila anni che applichiamo questo principio di sostenibilità. Ebbene, cosa vuol dire? Vuol dire renderla vera. Renderla vera vuol dire pertanto approcciare il mondo dell'energia, il mondo dell'ambiente. Ecco, e quindi noi come Compagnia delle Opere stiamo portando avanti un progetto, un progetto delle comunità energetiche che riteniamo che sia veramente l'emblema, la sintesi di quello che è il mondo della sostenibilità dal punto di vista ambientale, energia green, riduzione delle dispersioni nella rete e quant'altro, con quella sociale. cioè le comunità energetiche come strumenti per poter finanziare le opere del terzo settore, le quali hanno un impatto sociale importante e rilevante su tutti noi e come quindi modalità tale per cui nello scambio di energie e nel riconoscimento degli incentivi aiutare, sostenere quelle che sono le opere che stanno facendo il bene del nostro territorio. Siamo in conclusione di questa apertura di Salone del Libro, a questo punto mi allaccio all'esperienza che stiamo vivendo, vi rivolgete molto al mondo degli imprenditori, quelli presenti e quelli che saranno in futuro, qua si parla di libri, usciamo un attimo da quella che è l'impresa del libro, però quanto per un manager, per un imprenditore, forse è importante sapere continuare a leggere un libro, perché in fondo un imprenditore deve risolvere un problema tecnico, deve risolvere un processo o deve regalare un orizzonte di senso e di futuro? Beh, deve guardare lontano, deve vivere bene il presente e guardare il futuro, guardare il futuro con speranza. Io faccio la mia esperienza personale, in un piccolo studio di ingegneria, ebbene io una trentina di libri all'anno me li leggo e quanto mi danno questi libri lo posso veramente testimoniare. Eh, diceva qualcuno, gli esami non finiscono mai, quindi per noi la formazione è fondamentale, l'abbiamo visto anche con tutti i nostri collaboratori, quello che richiedono è formazione, e quello che cerchiamo di offrire anche a tutti i giovani che approcciano il nostro mestiere è un percorso formativo. Formazione, libri, viaggiano di pari passo e quindi direi che è un binomio inscindibile. Proprio in conclusione, un libro che consiglieresti? Il passeggero. Il passeggero e con questo diamo inizio alla terza giornata del Salone del Libro. Il passeggero e con questo diamo inizio alla terza giornata del Salone del Libro. Il passeggero e con questo diamo inizio alla terza giornata del Salone del Libro. Il passeggero e con questo diamo inizio alla terza giornata del Salone del Libro.